Salve dall'Associazione Ambiente Vivo, oggi 24 febbraio 2009 la riunione del comitato direttivo ha eletto il nuovo Presidente, ne parliamo con la Presidente uscente e fondatrice dell'Associazione Maria Assunta Paci, quale è il bilancio, quali le prospettive? Il bilancio è sicuramente un bilancio positivo in questi ultimi anni perché si è stretta una rete di amicizie, di collaborazioni, di progetti portati avanti, ma soprattutto si è mantenuta integra l'amicizia del gruppo fondatore e io con vero piacere ho partecipato all'elezione del nuovo Presidente, del nuovo direttivo perché sono persone con cui in questi anni abbiamo lavorato tantissimo e che assicureranno all'Associazione sicuramente tanta vitalità, tanta creatività, capacità di impegno e hanno in mente progetti che sapranno realizzare e che saranno importanti per tutti noi. Grazie.